La mattina profumo di festa, apro la mia finestra, sento la gente passare, cose buone da mangiare. Mi tuffo dentro ai vestiti, goloso di sapori squisiti, siamo della stessa razza, togliamoci la corazza. La domenica è in pazza, allora vai tutti in piazza. Dal 1973, Salotti RB, azienda leader del mobile imbottito. Con tecnologia all'avanguardia, continuiamo a migliorare la qualità dei prodotti realizzati in modo doverosamente artigianale. Sempre attenti alle mode e alle tendenze del momento. Fenice, centro medico di posturologia, un centro di nuova concezione, con sede a San Giovanni in Persiceto. Ricerchiamo le cause che hanno generato il sintomo, attraverso lo studio e il riquilibrio posturale. Inoltre, specialistiche mediche e fisioterapiche. Impero SRL, lavorazione alla Miere Made in Italy. Operiamo nel settore della realizzazione di componenti di carpenteria per compatto alimentare, ceramico, logistica e settore ferroviario. Specializzati nella costruzione conto terzi. Da oltre 35 anni, Apollo Prologic SRL produce macchine standard e macchine speciali con ricerca e sviluppo all'avanguardia. Progettazione meccanica ed elettrica, produzione interna delle parti strategiche, assemblaggio, cablaggio e assistenza post vendita. Aveggia, nei pressi di Sassuolo, CRIMAX estetica e armonie di bell'essere. Un team di professionisti che collaborano nella nostra struttura e a disposizione per aiutarti nel tuo percorso di benessere. Specializzati in estetica avanzata con tecniche e strumentazioni all'avanguardia. Eurocasa, affida la vendita del tuo immobile in mani sicure. La nostra abilità è quella di trovare sempre un accordo tra le parti, con equilibrio e serietà. Noi ti garantiamo la vendibilità della tua casa. Dal 2000, sempre con voi! Simonetta Arreda ti offrirà esperienza, professionalità e supporto per la realizzazione di una casa accogliente, elegante e contemporanea. Vieni a scoprire il nostro showroom a Sette Cani di Castelnuovo Rangone. A Carpi traslochi G e Gio, traslochi nazionali e internazionali per aziende e privati, deposito e custodia mobili, sgombero solai, servizi di falegnameria, arredamenti, facchinaggio e imbiancatura. Contattaci! A Sassuolo, da oltre 50 anni, vivai Pellacani. Progettiamo e realizziamo straordinari paesaggi, giardini e soluzioni di arredo urbano, unendo esperienza, estetica e funzionalità per valorizzare al meglio i tuoi esterni. Contattaci! A Castellarano, immobiliare vecchi. Dal 1998 prendiamo per mano i nostri clienti e li accompagniamo in piena trasparenza e sicurezza nel percorso di compravendita immobiliare, cercando insieme la casa dei tuoi sogni, occupandoci anche delle pratiche burocratiche. Vetreria Design Candeli. Da 45 anni progettiamo e realizziamo porte, vetrate, box doccia, pensiline, pavimenti, rivestimenti e complementi d'arredo dal tocco moderno e minimal per la tua casa. Contattaci per un preventivo personalizzato. L'Opificio delle Verdi Note non è un negozio di piante e fiori, ma uno spazio dove, grazie alla formazione e all'esperienza pluriventennale, nascono progetti verdi specializzati in arredo con il verde da interno e terrazzi. Grandissima esperienza nel settore del wedding. Autofficina Valentini. Vendita auto nuove usate e multimarca. Vendita, montaggio e riparazione pneumatici. Riparazione meccanica, elettrauto e meccatronica. Servizio di carattrezzi. Revisione. Allora, fiere d'ottobre, anche quest'anno diciamo di sold out, potremmo dire, no? Assolutamente, sono molto felice, la prima domenica è passata, tantissima gente, veramente un muro umano, non si passava e oggi altrettanto. Oggi è la fiera dal Belli Danni, noi cambiamo tradizionalmente ogni fiera con un nome, siamo partiti veramente al grande, il tempo ci assiste per cui siamo veramente contenti. Bene, poi tra l'altro, insomma, fiere d'ottobre si fa un salto nel passato per ricordare che, insomma, era un punto di incontro commerciale che è, diciamo, anche determinante per l'economia agricola in quel periodo. Assolutamente, è partito da Eleonora Bentivoglio nel 1503, direi, adesso la data precisa non me la ricordo, dove ha avuto sostanzialmente l'occasione, come signora di Sassuola, di fare una fiera e cominciare a fare le fiere. L'Aviso è un partito senza dazzi, questo era estremamente importante e da lì è stato un susseguirsi di fiere, di occasione per le fiere proprio di ottobre, nel mese di ottobre. Per cui siamo partiti da quello che era la parte agricola, più anche commerciale, per arrivare oggi dove tutti si vestono un po' a festa perché è un'occasione unica proprio per il commercio sassolese. Bene. Poi, tra l'altro, insomma, Sassuolo è sempre una fucina di iniziative, vogliamo magari ricordarne qualche d'uno nelle future imminente, qualche iniziativa, qualche, diciamo, evento di aggregazione che si può incontrare qui a Sassuolo? Assolutamente. Al mattino, come potete immaginare, come vedete, tutte le piazze, tutte le vie del centro storico e non solo, sono piene di attività commerciali, le banchette dell'arte ingegno, piuttosto che il commercio, piuttosto che le associazioni. Poi, il pomeriggio, si apre un mondo diverso, un mondo fatto anche da più giovani, dove ci sono oggi esempio come occasione in piazza Garibaldi, abbiamo un contest di giovani sassolesi dove si promesse cantanti e band e su invece, in piazza Martiri Partigiani, abbiamo un incontro di tutte le arti marziali, ma non solo, anche il sassuolo calcio, che fa provare un attimino anche ai più piccoli quello che è l'emozione del calcio. Così, una parte bimbi che è in piazza Libertà e un raduno di Ferrari, sempre oggi, in piazzale della Rosa, per cui direi che il centro storico è veramente molto pieno. Bene, grazie Assessore e buone fiere d'ottobre. Grazie a voi e buona domenica. La domenica è pazza, allora vai tutti in piazza.